Piloswine, non so come ringraziarti per averci salvati. Qualunque pericolo dovesse minacciarci, lo affronteremo insieme. Bene, cosa ne dite di andare ad aiutare Cresselia adesso? D'accordo, è un'ottima idea. Davvero meraviglioso. Cresselia, siamo venuti qui per pregarti di liberare la gente di Canalipoli da tutti quegli orrendi incubi. Cresselia! Sembra che si diriga proprio all'isola di Canalipoli. Forza ragazzi, andiamo anche noi con lui. È Darkrai! Darkrai, il Pokémon nero pesto. Si dice che nelle noti senza luna, quando le persone si addormentano, scatenni su di loro incubi terribili. È chiaro, questa volta la causa era proprio Darkrai. Già, ma per quale motivo è comparso ora? Guardate là in fondo. Sono i resti della macchina degli incubi del Team Rocket. Finalmente tutto comincia ad avere un senso. Darkrai è venuto fin qui in questo periodo così inusuale perché le onde elettromagnetiche della macchina degli incubi devono averlo attratto. C'è qualcosa che non mi convince. Sono d'accordo, ma questo non spiega perché Cresselia sia qui. L'unica ragione che riesco a trovare è che Cresselia deve aver intuito che l'isola era in pericolo. No! 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 Cresselia, grazie mille per il tuo aiuto. Ciao! E dove starà andando in questo momento? Chi lo sa, forse in un posto di cui non abbiamo mai nemmeno sentito parlare. E dove lo payo? Chi lo ha, perciò! E dove star? Chi lo sa, perciò! Ti?